Ma stelle, tutto sommato, l'ultima partita di oggi, prima di tutto da notare la maglia del Milan, guarda, bianco-nera è una cosa, è la luce, è la luce che abbaglia gli occhi, cioè capito, bianco-nera la maglia del Milan è bellissima. Niente, cosa dire, una partitella che sembravano due squadre di Serie B, ho visto questo calcio e giocato in Serie B, c'erano due rigori per il Napoli, clamorosi, uno di Mano e quell'altro che l'ha proprio sforbiciata giù per terra, cosa abbiamo visto? Un culo esorbitante di questo Milan, quel palo che, cioè, una fortuna esorbitante, ma il karma farà il suo, cioè, il karma è il karma a San Siro, è d'aprile, Milan Inter, il karma lì, Esther, no, no, non è il karma lì. Comunque, dai, il Napoli meritava almeno il pareggio, ma sono due squadracce, eh, dobbiamo dirlo ragazzi, mamma, mamma, cioè, il Napoli è scomparso totalmente, Kvaraskelia che, cioè, basta non fare quei tirietti, e poi, guarda a caso, quando giocano questi, Ozyman manca sempre, guarda a caso, sarà un caso questo, Esther, comunque sia una buona partita di Serie B, cioè, dai, Sì, tutta forza, muscoli, tutti avanti, hanno speso tanto, hanno speso, hanno speso tantissimo, e si è visto, quindi alla prossima le prendono, tranquillamente, hai capito? Stelle, che cosa dire? Che cosa dire? Meno sette dal quarto posto, uè, voglio, questo è proprio grave, meno sette dal quarto posto, voglio, mamma mia, comunque due squadracce, due squadracce. Dai, adesso leggiamo, stavo leggendo qualcosa sul, sul fatto di, i, i, i inzaghi che, non può dire niente più, all'allenatore in campo, non gli può mandare nemmeno un vocale, siete, siete, veramente siete al, ormai, come dice Giuse, state sparecchiando, siete alla frutta, siete, dai, Stelle, fammi leggere un po'.